Io aspetto che la signora Meloni faccia mangiare la farina di vermi a sua figlia prima di decidere di darla alla mia. Era la domanda successiva, farina di grilli varie ed eventuali, quindi direi che... Va bene per la signora Meloni, perché mangiatori di merda abituali possono anche mangiare la farina di grilli. È un passo in più che hanno fatto, è un passo in più. Io spero solo che questi cialtroni vadano via presto, perché la deriva di questo paese venga corretta finché si può e perché l'Italia si sganci definitivamente dal mostro UE e da tutte le farneticazioni di quella che io non chiamo più UE ma UEP, Unione Europea Psicopatici.